Tutto parte da alcune semplici parole, tre per l'essattezza, Gaudium et spes, gioia e speranza. Gioia per la chiamata del Papa, bellissima perché inaspettata e alla quale non si poteva dire di no. Speranza per essere in grado di portare in terre come accumuli ed amatrice la parola di Dio, dove ce n'è tanto bisogno dopo il sisma di sei anni e mezzo fa. Accanto a questo motto poi c'è il motivo dello stemma, un albero di ulivo, quell'albero di ulivo, chiaro riferimento a noi, abitonto, alla sua abitonto. Prima ancora c'è i riferimenti biblici. Perché l'ulivo? Perché Don Vito Piccinonna, neovescovo di Rieti, va via ma senza strappare le radici, senza dimenticare quella comunità dove è stato punto di riferimento, quella città che in sette anni e mezzo gli ha dato tanto, forse tutto, e per la quale ha speso tutto il suo impegno. Per gli ultimi, per i più bisognosi, per i giovani, per chi era in difficoltà. E lo ha ribadito anche in consiglio comunale, dove ha salutato sindaco, assessori e consiglieri, ma da dove ha abbracciato idealmente Bitonto, Mariotto e Palombaio. La frazione dove è nato? Sicuramente è una città che è cresciuta da diversi punti di vista. Ovviamente non dobbiamo trascurare anche il momento difficile, diciamo, della pandemia che ha un po' rarefatto anche le relazioni a tutti i livelli. Quindi sicuramente siamo anche debitori di questo tempo anche particolare che si è vissuto, in cui si riconsegna anche a una città l'impegno di far crescere il senso comunitario della vita, delle relazioni e della città stessa. Ecco, la città si pone sempre al confine tra quell'elemento del nomadismo e quello del clan. La città è stata fatta per questa, per evitare una dispersione identificativa e per evitare la chiusura dei clan. Ecco, la città si pone come uno svincolo, come un trampolino di lancio, come una terra di mezzo in cui far maturare anzitutto le relazioni. Il neovescovo, parlando all'emiciclo, ha ricordato che Bitonto ha tante eccellenze da tanti punti di vista, ma che a volte si disperdono, evidenziando come deve esserci il compito di custodire l'amicizia tra i cittadini. Quei cittadini che lo hanno accompagnato in questi sette anni e mezzo, dove non ha mai camminato da solo, ma con collaboratori. Bitonto per me è la città dei Santi Medici, per cui ci sarà sempre un ricordo particolare di questi due giganti della fede, della speranza e della carità, di tutto ciò che hanno significato per il bene di questa città e anche le opere che nel loro nome, oltre che il santuario, quelle opere legate alla fondazione, che restano come patrimonio di tutti, soprattutto dei più fragili.